Insieme a noi troviamo al tavolo Chiara Marinacci che ha il compito insieme ad Alessia Sabatino che ci ha assistito durante tutta la sessione di costruzione dei significati di questa sessione per riportare in plenaria quelle che sono un po' le istanze che verranno fuori dai nostri interlocutori. Le aree che sono presenti sono la Lombardia, li presenterò tre volte per un motivo perché prima ve li dico in termini di regioni, poi in termini di funzioni e poi vi dico anche i nomi. Abbiamo la Lombardia, poi la Toscana e la Sardegna, quindi rappresentativi di dimensioni regionali completamente diverse tra di loro. Abbiamo una dirigente di azienda sanitaria che oggi si occupa di programmazione territoriale e di epidemiologia e di cure primarie all'azienda sanitaria di Pavia, poi abbiamo invece una, scusatemi così comincio anche a dire i nomi, si chiama Vittorio De Micheli, poi abbiamo Daniela Nocentini che invece è una dirigente regionale e si occupa di, no scusami, dell'unione dei comuni, scusatemi, e si occupa in generale di tutto quello che sono i servizi sociosanitari e quindi diciamo è anche lei un front desk rispetto all'erogazione dei servizi e poi Simona Argiolas che invece si occupa più del livello di programmazione e quindi su un livello più regionale. È interessante quindi sapere che abbiamo tre interlocutori che si affacciano alle aree interne da tre dimensioni diverse fra di loro. Ci parleranno di tre argomenti, uno è l'infermiere di famiglia e di comunità, uno è la telemedicina, l'altro i caregiver, sono argomenti gancio, nel senso che poi le loro strategie, le strategie che hanno seguito sul loro territorio hanno anche altri interventi. Ancora un minuto di presentazione per dirvi che insieme a me e su questo tavolo, oltre a Chiara, idealmente ci sono Katia, alza lei la mano adesso, che è un'altra degli esperti in vitalia, Mario Coi, io non l'ho scritto qua perché sta nel gruppo degli statistici, però è con noi, il Ministero della Salute e Marco Forti, quindi questo lo correggerò. Allora, credo di avere presentato tutti. La giornata di oggi si svolge con quattro domande che vi ho messo apposta sul lato sinistro. La quarta domanda, quella in azzurro, è trasversale a tutte le sessioni, quindi è un compito che abbiamo tutti noi. Quindi la sessione è abbastanza interattiva, nel senso che con uno di loro è stato invitato sia a presentare un po' il proprio intervento, sia in termini di luci, di ombre, come ha detto bene Sabrina, perché siamo qui anche per confrontarci, per fornire anche delle indicazioni per i passi successivi e anche per intervenire, incuriosirsi e così via. Quindi con moderazione, visto che i tempi sono un po' più ridotti, se ci sono interventi dal pubblico ci fa piacere poi dedicare uno spazio e restare interattivi anche con voi. Allora, la prima delle domande guida è quali sono i percorsi innovativi delineati nelle strategie d'area per assicurare maggiore equità in termini di accesso e qualità del sistema sanitario. Vorrei cominciare a parlarne con la Lombardia e quindi con Vittorio De Micheli a partire dall'esperienza a cui loro stanno ancora riflettendo, che è quella dell'infermiere di famiglia e di comunità. Scusatemi, ultimo livello di distinzione fra le tre aree. Da loro sono ancora in uno stadio di progettazione, invece lì sono già arrivati a uno stadio di APQ e quindi abbiamo anche diversi livelli rispetto allo stato di avanzamento delle schede. Il che credo sia importante, perché qualcuno di voi magari rappresenta un'area che ancora sta camminando, altre aree che invece sono già vicine alle APQ e quindi magari hanno la possibilità di avere più prospettive. Lei è la mia former speaker, nel senso che l'anno scorso lo faceva lei, quel mestiere che sto facendo io, Laura Tagle, che aveva condotto la sessione della salute l'anno scorso. Allora, Vittorio, se ci dici un po' sull'infermiere di famiglia e comunità, un po' quello che sono due minuti per descrivere l'intervento e poi... No, no, due minuti nel senso prenditi il tempo per descrivere l'intervento. In tutto questo vi metto una seconda slide, invece, dove sono riportate delle parole chiave che servono un po' anche a tutti noi per seguire un po' come si sono sviluppate le strategie e cosa stanno portando avanti. Grazie. Intanto è doveroso, visto che io parlerò dell'infermiere di famiglia e comunità. Siamo in Valle Maira, ricordiamoci che sono nati qui e sono nati in Val di Susa. Io ho lavorato in Piemonte fino a qualche mese fa e quindi conoscevo questa figura che ha qua proprio avuto con un progetto interreg, con un progetto consenso, quindi è stato messo a punto e qui ci sono, credo, 5 o 6 infermieri che adesso addirittura l'ASL ha assunto, quindi sono partiti con delle borse di studio, adesso lavorano in questa valle e nell'altra valle, dato atto di questo, questa identificazione che però smonterò alla fine tra la strategia innovativa e la figura professionale, l'etichetta la teniamo buona perché è evocativa, dell'infermiere di comunità e fondamentalmente una attività di ricerca attiva di problemi, di fragilità. Questo è quello che fanno questi operatori e appunto lo fa una figura che nasce con un'idea che io personalmente ho sempre un po' criticato, nel senso che è un'idea scozzese che non era tanto bella perché come abbiamo un medico ogni mille abitanti, un infermiere ogni 500, ma siccome da noi, io faccio quello per la medicina generale, non è che funziona benissimo, riprodurla per l'infermieristica non era una grande idea, in realtà la traduzione in italiano di questa idea non è stata un medico ogni mille, un infermiere ogni 500, ma è stata invece la elaborazione di una fisionomia professionale, di una sorta di attivatore di rete, di persona dedicata alla diagnosi di comunità e che ovviamente appunto non replica assolutamente quel modello. Butto lì un numero dalla Valgrana, hanno scrinato 1600-1700 per anziani, qui erano solo anziani, noi abbiamo le fragilità più in generale nel nostro progetto, comunque hanno scrinato circa 1500 persone, dopo due anni ne hanno 500 in carico, se ne occupano, però non sono loro che erogano direttamente i servizi. Nel modello piemontese, siccome l'infermiere è stato assunto dal distretto e il distretto fa anche i servizi sanitari e sociosanitari, qualche volta capita che l'infermiere di comunità fa anche l'erogazione dei servizi. Per esempio nel modello che invece stiamo progettando nell'oltrepo, in una regione dove invece io lavoro all'ATS, che è una cosa che c'è solo in Lombardia, e all'agenzia di tutela sono quello che compra e che è distinto da quello che produce, quindi da noi compreremo, l'ATS è il soggetto attuatore, noi siamo noi che ci occupiamo di questo pezzettino, compreremo l'infermiere questa funzione, probabilmente dai soggetti erogatori, nel nostro caso saranno degli accreditati che si occupano di cure domiciliari, ma li faremo fare questa cosa in più. Allora, non so se ho dato a tutti l'idea, giusto per tornare all'esempio... E' un signore a cui noi diamo l'elenco, in questo caso qui della Valmaria, degli anziani, nell'oltrepo, probabilmente gli daremo, oltre agli anziani, una serie di nominativi di persone che per quello che hanno consumato, diciamo, vedete il linguaggio lombardo, quello che hanno consumato, no, per quello che ci risulta dai database amministrativi, potrebbero essere soggetti fragili, poi però chiederemo ai sindaci di allungare l'elenco con i nominativi delle persone che loro conoscono essere soggetti a potenziale rischio di fragilità, chiederemo ai medici di medicina generale di allungare, di leggere l'elenco e di eventualmente aggiungere qualche nome e poi fisicamente andremo proprio nelle varie lì, ci sono case sparse nell'area dell'oltrepo, più che frazioncine isolate, perché è montagna ma non è alta come qui, quindi sono piccole frazioni, andremo lì, come hanno fatto qui in Valmaria, andremo lì col nome di una vecchietto e poi però, cercando quel vecchietto, se in quel nucleo di casa viene fuori qualche di un altro, anche se non è nell'elenco, quindi fondamentalmente saranno persone che partono avendo un elenco di persone da andare a intervistare, avranno un po' di strumentini, qui nell'esperienza piemontese, c'è già un armamentario di scale, sotto scale c'è una scala rapida che con poche domande dà un punteggio così veloce per identificare se vale la pena proseguire o no, però questo lo faremo, nell'oltre poi lo replicheremo, nel senso che faremo decidere, agli professionisti nostri faremo decidere se usare lo stesso strumento e fondamentalmente, una volta identificate le persone, speriamo, nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente di avere già una risposta verso cui orientare questa persona e altrimenti facendo diagnosi di comunità allungheremo l'elenco dei problemi a cui bisogna dare una risposta. Non problemi, solo lo dico perché poi ci arrivo in fondo, qui la parola infermiere qualche volta è confusiva. Ieri ho fatto una riunione in regione Lombardia in cui hanno visto l'infermiere in comunità e hanno detto che era l'aggiunta di un fondo sulla conciliazione che prendiamo da un'altra cosa che però va sempre a finire nelle aree interne. Quando hanno sentito l'infermiere in comunità hanno detto che questi sono due fondi diversi, quella è sanità. No, qui si chiama infermiere in comunità ma va a caccia di problemi a tutto tondo. Molte volte, è successo nella Valmaira, restituirà dei problemi di trasporto. Lì non ci sarebbe bisogno d'altro che di trasporto per risolvere il problema di quella persona. Comunque, questa è un po' la metodologia grossolanamente e faccio due sottolineature di un po' di metodo che vanno sulle parole chiave. L'idea intanto è quella della proattività che si sposa al Piano Nazionale di Cronicità si sposa un po' all'idea di rifondare in questo caso prendo in prestito un termine della medicina di passare alla medicina di iniziativa quindi in questo caso è di andare a caccia di problemi, anticipare e metterci magari anche un pochino l'idea della prevenzione di arrivare qualche volta prima che i problemi diventano gravissimi. Questa è una delle idee chi ha. L'altra è quella proprio della prossimità cioè di portare questo soggetto lì a muoversi in mezzo a quelli che ci sono far muovere i sindaci far muovere le reti formali e informali che esistono in quella realtà. Poi l'altra idea è di intrecciare tutto quello che si fa con quello che già c'è quindi cercare di evitare che poi quando finiscono i soldi del progetto questa cosa finisca e quindi noi come dicevo probabilmente compreremo questi servizi aumentando il budget di soggetti erogatori che già ci sono ma se poi dopo magari questi soggetti restano lì imparano a fare questo mestiere come è successo in questa valle che poi l'Asla ha assunto gli infermieri la magari nel budget dei soggetti erogatori che magari litigheremo con la regione per farlo aumentare un po' ci resterà questa cosa qui quindi l'idea della sostenibilità passa soprattutto in questo momento nel fare, nell'intrecciare queste cose nel tessuto che già esiste che non sia certo fa una cosa in più una cosa che non si è mai vista in oltre poco però farlo usando i canali le reti, il tessuto che c'è in maniera che resti appunto questa idea della professionalità parte racconto l'aneddoto che così mi spiego quando sono arrivato la prima volta la prima riunione io venivo dal Piemonte ho detto che bella idea a Varzi avete messo l'infermiere di comunità nella schede ma veramente ce l'hanno detto a Roma nel senso che ho capito che faceva parte la diffusione di questa cosa di una precisa volontà e ne sono pienamente convinto quando ero in Piemonte diciamo abbiamo fatto le delibere per dire a tutte le As di usare questi infermieri anche se non erano parte della sperimentazione quindi io non avevo bisogno di essere convinto però mi ha colpito questa cosa che è partita qui in Piemonte come un'idea di sviluppare l'ennesima professione e io su quello invece sono allergico perché abbiamo 22 professioni sanitari adesso siamo a interrogarci come integrare figure come farle lavorare prima le creiamo specialisti che differenza c'è tra un ortotista e un ortoprotesista lo lascio alla discussione quindi io avevo paura io nella mia esperienza che questo fosse l'ennesima figura professionale che poi diventava un po' corporativa che aveva le sue prorogative questo faccio io questo fai tu invece assolutamente penso poi proporrò di togliere questa etichetta infermiera di comunità perché in effetti ne è nata un ruolo un'attività che in questo caso nasce da infermieri che poi fanno un master ma credo che potrebbero farlo tranquillamente operatori sociali cioè il livello a cui si muove adesso questa questa cosa qui incorpora un po' di multidisciplinarità c'ha tanti saperi questa persona compreso qui nell'esperienza della Valmai anche la lingua diversa perché qui sono stati usati infermieri che sanno anche interloquire con questa comunità perché qui tra l'altro si parla nell'oltre po' no non c'è non c'è questo problema io penso di aver parlato fin dopo allora io aspetta facciamo il contrario mi metto qui così allora dell'intervento di Vittorio mi sembra importante rilevare una cosa a proposito della domanda che faceva Barca e anche Lucatelli Sabrina dicendo ma che cos'è che stiamo già cambiando che ancora facciamo fatica in effetti poi a partire siamo ancora a strategia PQ e così via stiamo cambiando l'approccio qua siamo partiti da un progetto europeo era su un bando Interreg abbiamo visto che la sperimentazione aveva un poco funzionato e abbiamo cominciato a pensare forse questa è un'innovazione che possiamo portare dentro il servizio sanitario cominciamo a ragionare se per esempio dentro le aree interne una figura del genere può essere una soluzione le aree interne consentono quindi di fare un momento di non dico di sperimentazione ma di implementazione cioè passare dalla dimensione del progetto a disegnare cosa significa il servizio cioè come l'infermiere poi interagisce con il medico di famiglia con l'azienda nel loro caso con quella che è l'organizzazione in Lombardia in Piemonte per esempio invece con l'organizzazione del distretto o con l'organizzazione di quelli che possono essere poliambulatori case della salute ecco la scusa passo la parola alla Sardegna cioè con centri in cui l'azienda sanitaria invece concentra una serie di servizi questo lo dico perché perché è importante capire che le strategie aree interne non interviene dicendo inventiamo per forza cose nuove ma cerchiamo anche di capire cosa c'è di buono sul territorio e possiamo valorizzare magari riadattandolo a quello che è un contesto organizzativo specifico come quello della Lombardia in cui si dice vedi cosa faceva prima in Piemonte e cerca di capire se e come può essere utile nel tuo sistema questo perché lo dico perché ci confrontiamo anche con un elemento estremamente diverso da quando è partito il progetto consenso sull'infermiera di famiglia oggi col piano nazionale cronicità si parla di stratificazione dei bisogni quindi mentre prima l'infermiera di famiglia e di comunità era veramente nuovo perché andava a cercare il vecchietto che dal medico non c'era andato non c'era andato perché era lontano perché non aveva capito che stava male perché comunque io dal medico non ci vado eccetera eccetera adesso con la stratificazione dei bisogni tecnicamente le regioni prendono coscienza insieme alle aziende sanitarie e quindi ai medici di medicina generale di avere una popolazione di riferimento che ha una serie di bisogni e di problemi e vanno come dire a cercarli proattivamente in questo caso piuttosto che far muovere il medico per il primo contatto si fa muovere l'infermiere che va e soprattutto questo può essere il valore aggiunto si rende conto di dove vive e quindi se ha una casa poco sicura dove il vecchietto o la vecchietta può cadere e quindi fratturarsi un femore che significa ospedalizzazione se ha un circuito di parenti oppure no e quindi se ha una sua fragilità sociale o meno quindi consente al sistema sanitario di conoscere l'ambiente in cui vive che è qualcosa che cambia la possibilità di essere efficaci con le cure perché perché se un vecchietto vive da solo si scorda di prendere le pillole e quindi magari serve verificare che qualcuno lo aiuti in quella che nel sistema sanitario si chiama aderenza alla terapia allora con le scuse passo la parola a Simona Argiolas della Sardegna perché invece l'intervento da cui partiamo per raccontare come la strategia interviene nel settore della salute è quello della costituzione di un poliambulatorio con un'integrazione di nuovi servizi rispetto a quelli che in questo momento erano già offerti alla popolazione sì in realtà il poliambulatorio è stato trasformato in una struttura sociosanitaria intermedia qui la strategia in qualche modo è andata a intersecarsi con una visione della medicina di iniziativa che la regione Sardegna ha deciso di intraprendere e quindi la dimensione regionale quella della programmazione generale di cui io faccio parte che è il coordinamento della strategia nazionale interna insieme a due servizi dell'assessorato della sanità che sono quello della programmazione e della salute e quello dei supporti tecnologici e informatici sono andati sul territorio ad incontrare gli operatori e i cittadini e qui abbiamo incontrato diciamo il primo elemento che risponde un pochino alla domanda iniziale la solitudine vi racconto perché da come avevo impostato prima diciamo l'intervento poi quello che è successo nella plenaria mi ha portato a raccontare a concentrarmi sulle persone sia le persone utenti sia le persone operatori significativissimo l'essera con me è stato il racconto del neuropsichiatra è un'area dove non c'è un eccesso di ospedalizzazione c'è una rete comunitaria molto forte è un'area che aveva ha già intrapreso la concentrazione a una forte comunione di comuni aveva già fatto la concentrazione in campo scolastico per evitare le chiusvere dall'alto e così ha ragionato in termini di lavoriamo su quello che abbiamo avevano un poliambulatorio e lo trasformiamo in una struttura che va a compensare diciamo i due elementi più importanti per il territorio dal punto di vista dell'età è un territorio che ha un indice di vecchiaia che è considerato di non ritorno quindi ha patologie senili gravissime e molto impattanti ma dall'altro lato si è voluta concentrare fortissimamente sia il lato scolastico che il lato sanitario sui giovani giovanissimi sia dalla scuola dell'infanzia ha riscontrato disagi e patologie sia nel lato dell'infanzia che nel lato docente scienziale che andavano ad impattare sul rendimento scolastico ma proprio sulla socializzazione e quindi è per questo che si è ragionato in termini di struttura sociosanitaria integrata qui l'elemento per esempio telemedicina va in supporto e non in sostituzione perché sono proprio i soggetti fragili ad aver bisogno il neuropsichiatra ci ha raccontato una situazione drammatica cioè lui era costretto a ricoverare in neuropsichiatria cioè bambini adolescenti in pericolo di vita perché magari avevano tentato il suicidio perché erano talmente privi di forza che aveva come unico strumento quello di ricoverarli in un reparto che era devastante per quella patologia per quella fragilità quindi nonostante questo elemento non avesse una dimensione numerica significativa consideriamo il fatto che in regione Sardegna non c'era e non c'era e non c'è ancora una struttura che si occupasse di questa tipologia di disturbi era in programmazione la creazione di due centri ed è clamoroso e sarà uno degli interventi più importanti quindi più significativi dal punto di vista degli impatti della trasformazione scusami del disturbi del comportamento alimentare quindi questa struttura sociosanitaria intermedia che lavorerà sulle patologie cliniche senili interverrà con il supporto della telemedicina per in questo momento individuato come prima sperimentazione i cardiopatici con chiedo scusa perché mi sfugge in scompesso cardiaco e andrà poi a lavorare grazie a ulteriori risorse che verranno messe a disposizione sempre dalla regione e sul programma operativo regionale FESR ad implementare per esempio il diabete infantile che ha ugualmente una grande numerosità e quindi tutto questo sistema in realtà costituisce probabilmente in termini di impatto di capacità di cambiare profondamente quell'area di creare anche in termini di formazione perché i soggetti che andranno ad operare nella struttura che si occuperà dei disturbi del comportamento alimentare grazie all'attivazione di un protocollo di intesa con la regione Umbria che è riconosciuta che ha un centro di eccellenza di livello nazionale si andrà ad attivare un protocollo di formazione per tutta una serie di soggetti e di operatori che lavorano dall'atto della prevenzione della diagnosi e della cura che quindi intervengono sia sul fattore problema medico ma anche sul fattore di impatto sociale questa struttura farà una cosa importantissima chi ovviamente ha una residenza piena perché quindi è in pericolo di vita verrà accompagnato in un percorso di cura ovviamente stretto però multidisciplinare e quindi che coinvolgerà diversi aspetti quindi dallo psicologo al neuropsichiatra gli infermieri eccetera che andranno a fare questo tipo di formazione gli assistenti sociali saranno coinvolte le comunità farà una cosa importantissima che è la sperimentazione di una collaborazione con aziende che fanno agricoltura sociale per la costituzione di quello che viene chiamato l'orto dei sensi perché i soggetti che invece passano nella fase di semiresidenza potranno essere portati all'interno di queste piccole cooperative che fanno agricoltura sociale per andare a lavorare con l'atterna a riscoprire il valore della produzione dal semino di qual è l'importanza dell'alimentazione quindi diciamo che veramente abbiamo non solo un intervento che va a coprire la questione della salute e del benessere ma anche un potenziale insediativo e di attivazione di nuove residenze perché si vanno ad attivare tutta una serie di attività lato imprenditoriale lato dei servizi sociosanitari importantissimi l'altra cosa da non dimenticare perché abbiamo detto che medicina di prossimità se concentriamo com'è che portiamo oltre con la telemedicina e la medicina qui è stato un altro intervento molto interessante siccome loro hanno concentrato sulla scuola e avevano una flotta di pulmini inutilizzati allora con il settore mobilità li doteremo di sistemi di gestione tecnologica ci sarà una centrale operativa sarà formato una mobility manager che gestirà questi pulmini quindi una volta che hanno terminato le attività scolastiche saranno impegnati per andare a prendere i pazienti e portarli nelle strutture per fare le attività oppure anche per l'attività di socializzazione dei bambini che diciamo in questo momento erano impegnati a girare con i pullman di linea e a non avere nessuna vita sociale ad essere completamente limitati nelle proprie attività allora io credo che sia importante fare rilevare perché questo tipo di intervento ovvio comunque questo case study chiamiamolo così diventa importante rispetto a quello che sta facendo la strategia la prima cosa sono usciti come abbiamo fatto prima per l'oltre pop la prima cosa sono usciti alla torre d'avorio perché sono stati loro che sono andati un po' come Roma il comitato SNAI fa con le aree interne loro sono andati a vedere sul territorio dove non c'erano particolari mancanze quindi non avevano mai avuto motivo di andarci non c'era un'emergenza e però andando sul territorio sono riusciti a incontrare a capire quale potevano essere delle oggettive degli oggettivi bisogno di intervenire seconda cosa importantissima hanno detto che sono partiti dal sguardo sugli anziani però per imparare a guardare i giovani che è il vero modo di fare invecchiamento sano e attivo cioè quando tu cominci con una politica che ti fa invecchiare bene perché cominci quando sei giovane parlando ai giovani e investendo sui giovani hanno ragionato su quelle che erano delle risorse regionali o degli interventi che a livello regionale non mancavano e quindi dove i piccoli numeri locali potevano essere amplificati dal fatto che era comunque una struttura che andava a diventare un centro di rifiuto regionale investendo su quello che è il concetto di alimentazione e l'hanno demedicalizzato cioè partono da quello che è un problema di salute legato all'alimentazione e fanno diventare all'alimentazione un valore un valore che crea occupazione perché si collegano all'agricoltura sociale alle piccole comunità e insieme a quello cominciano a ragionare con la scuola con l'educazione alimentare e quindi non è semplicemente un centro che si occupa di disturbi alimentari si occupa di alimentazione e dunque anche dei disturbi quindi sono passati da un concetto di cura a un concetto di produzione di salute di promozione di salute ecco tutto questo lo possiamo dire sta avvenendo perché in qualche modo vi abbiamo costretto a riflettere sul discorso di vi abbiamo come stai siamo tutti diciamo in fase di progettazione cioè il territorio non voleva che venisse fuori che c'erano dei problemi legati al comportamento alimentare cioè è stata una cosa difficilissima da nominare da far nominare da discutere perché era qualcosa che non volevano assolutamente venisse fuori un tabù e le ragazze i ragazzi avevano questi problemi venivano mandati al San Raffaele a Milano quindi è stato anche portare il territorio e dire basta certi tabù fanno male alla comunità parliamone e questa è una cosa che credo in tutte le aree interne magari qui era questa in un'altra però ce ne sono tante allora io credo che la rottura dei tabù sia un elemento interessante dal punto di vista della notizia che andavano fuori sulla sostenibilità dell'intervento mi pare di capire che potreste verificare se riducete mobilità passiva cioè queste sono persone che comunque si ricoveravano fuori e che adesso tornano sul territorio coprirà tutta la regione erano previsti due centri che naturalmente sarebbero stati fatti a Cagliari e nel nord Sardegna nelle aree urbane e la nostra piccola Silicon Valley è sul serio questo il centro per i disturbi del comportamento alimentare perché ecco diciamo tra l'altro per parlare insomma delle criticità che è l'altro tema ovviamente nella fase noi siamo nella fase di costruzione delle famose relazioni tecniche che trasformano le schede intervento della PQ ovviamente siamo passati dal parlare con il neuropsichiatra che o con gli operatori o con le persone che avevano problemi che era emotivamente impattante con il RUP parlare con l'area tecnica della TS perché noi siamo diventati adesso è diventata azienda sanitaria generale regionale e quindi ci relazioniamo parlare con l'area tecnico-amministrativa è stato molto molto è molto 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 complicato diciamo che per fortuna a un certo punto è arrivata una donna gli altri volevano cancellare gli interventi l'ADI non era interessata a fare la telemedicina quell'altro non era interessata a fare quell'altra cosa è arrivata l'ingegnere RUP nella telemedicina che ha detto ma di che cosa state parlando questo è una cosa che è assolutamente importante ok ci penso io e da lì insomma stiamo tornando a casa donna ingegneri donna poi a maggior ragione Alta Marmilla Sardegna si ci tenevo a dire che con questo intervento loro tra l'altro come dire valorizzano quello che sono delle risorse locali perché parlava dell'orto dei sensi e ragionando sulla scuola hanno anche detto che formeranno un mobility manager quindi c'è anche come dire una ricaduta sull'occupazione la salute non è più vista semplicemente come un costo ma come anche qualcosa che può invece sviluppare e mi sembra però importantissimo questo ragionamento di cercare e lo dico per il futuro per tutti quelli che lavoreranno sulle varie aree compreso noi che ce lo raccontiamo tutte le volte che andiamo in un'area bisogna parlare con tutti i livelli aziendali con tutti i livelli assessoriali perché si rischia quando si scrive un buon progetto in generale è bene sempre scriverlo con la parte amministrativa accanto che ti dice bellissimi i sogni che stai facendo ora ti spiego dove sbatto la faccia io e così si trova una soluzione quindi questa è veramente una raccomandazione calda che mi sentirei di raccogliere e di trasmettere partendo dal punto di vista invece dell'occupazione cioè della salute che sa creare occupazione vorrei andare all'altra domanda che era quella health in all policies all policies for health che è un po' quello che è stato come dire un contentino che l'Europa nella programmazione 2014-2020 ha dato al settore salute perché la commissaria alla Digi Santè che era Paola Testoricoggi un'italiana nel 2013 non è riuscita a fare mettere dagli obiettivi europei la salute e allora ha ottenuto che invece venisse interpretato come obiettivo trasversale per la serie tante politiche tante policy possono contribuire alla salute difficilissimo farlo capire a chi in generale si occupa solo di sanità è difficilissimo farlo capire a chi invece sul territorio non si occupa di sanità ma si occupa invece di amministrazione di comunità di risorse eccetera eccetera e invece la SNAI che mette a sistema continuo di confronto quello che sono i territori l'associazionismo le risorse del territorio e la salute riesce un po' anche a smuovere questo tipo di approccio e quindi partendo dall'occupazione mi fa piacere presentarvi il terzo intervento che invece è della Toscana e ce lo racconta Daniela Nocentini partendo dall'intervento sui caregiver non tanto per il caregiver che si traduce con badante dove il badante può essere sia il familiare ma molto spesso è una persona che invece assumiamo per più o meno in nero e questo è molto importante rispetto all'intervento che ci racconta lei per aiutare in famiglia se abbiamo un anziano oppure un disabile o se molto più semplicemente succede qualcosa in quel momento cioè si è rotto la gamba qualcuno e abbiamo bisogno di un aiuto per alcuni mesi quindi Daniela grazie allora noi intanto c'è da dire che la nostra strategia diciamo ha un'attenzione particolare verso l'occupazione quindi anche con interventi ad esempio sull'orientamento narrativo per quanto riguarda i giovani e anche rispetto ad esempio agli interventi sociosanitari con uno sguardo particolare appunto allo sviluppo dell'occupazione noi partivamo da una situazione in cui abbiamo chiaramente come tutte le aree un alto livello di invecchiamento della popolazione applicando gli indici elaborati dall'agenzia regionale di sanità toscana 7,8% l'incidenza della non autosufficienza su popolazione uguale o superiore a 65 anni abbiamo un dato di circa 1.400 anziani non autosufficienti se poi andavamo a guardare la fragilità geriatrica in popolazione superiore ai 75 anni avevamo un dato ancora più preoccupante intorno ai 1.900 persone IRPET quindi le analisi come? l'istituto regionale cioè un istituto regionale di ricerca che guida la programmazione delle zone e delle aziende USL diciamo che un andamento così veloce diciamo sia rispetto alla non autosufficienza che rispetto all'invecchiamento della popolazione metteva a rischio di fatto l'accesso universalistico ai servizi cioè noi non ce la facevamo a dare tutte nel futuro non ce la facciamo a dare tutte le risposte di fatto contemporaneamente si è sviluppato nel nostro territorio come quello appunto della Valtiberina noi siamo stati caratterizzati da un elevato diciamo tasso di immigrazione di donne dell'est europeo che proprio hanno diciamo si sono occupati appunto delle persone anziane che vivevano nel nostro territorio cosa osservano però i servizi che intanto diciamo come appunto diceva Giada nonostante diciamo che quando i bisogni e le famiglie interloquiscono con i servizi chiaramente noi iniziamo un percorso virtuoso in modo tale che comunque ci sia una regolarizzazione del contratto però invece in molti casi purtroppo insomma registriamo che questa cosa non c'è inoltre registriamo anche che l'assistenza di fatto che viene erogata non sempre è un'assistenza di qualità un ulteriore problema è comunque il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici non sempre le famiglie appunto sono così disponibili a riconoscergli comunque la giornata libera insomma spesso gli anziani stanno in frazioni isolate quindi anche la loro possibilità di relazione è veramente limitata quindi dovevamo in qualche modo mettere in atto un percorso che potesse migliorare da un lato l'assistenza degli anziani dall'altro quindi sostenere il caregiver familiare migliorare appunto la qualità del suo lavoro quindi abbiamo pensato di dar vita all'interno della strategia all'attivazione di una di un'ailo cioè di una iniziativa appunto locale per l'occupazione utilizzando le risorse del fondo sociale europeo mettendo in atto un percorso di formazione che preveda quindi sia in ore in aula ma anche appunto poi diciamo formazione on the job quindi nel campo e oltre questo di sostenere la nascita almeno l'obiettivo che ci siamo posti è almeno due associazioni di promozione sociale che possano quindi raccogliere le a questo punto le assistenti familiari si vuole un po' superare il discorso del badantato invece per parlare di un'assistenza familiare qualificata questo era l'obiettivo in modo tale che all'interno dell'associazione potessero quindi crearsi anche gli spazi per realizzare le sostituzioni quindi non solo che queste persone una volta formate potessero diventare poi elementi appunto riconoscibili anche in termini di qualità dell'assistenza da parte del medico di medicina generale da parte ad esempio anche del servizio sociale professionale pensiamo ad esempio a tutti i percorsi sulla cronicità degli anziani e quindi la necessità di avere all'interno della famiglia una persona che monitori appunto quella che è la condizione appunto dell'anziano quindi questo è un po' diciamo il nostro progetto pilota ci auguriamo che chiaramente oltre le prime due associazioni in realtà che questo sia anche questo un processo virtuoso ecco vi dico un altro elemento fortemente critico era il periodo delle vacanze per cui spesso come succede in molte parti in realtà la sostituzione viene organizzata direttamente dall'assistente familiare magari chiamando una persona è un familiare per un periodo che sostituisca che la sostituisca nell'assistenza si perde di qualità quindi era necessario anche in questo caso intervenire si parla di un fenomeno stime abbastanza diciamo reali di 3.000 persone nel territorio che possono comunque essere interessate a percorsi di formazione noi abbiamo una legge regionale che prevede anche l'accreditamento dell'assistente familiare questo crea anche le condizioni per creare degli elenchi a livello comunale in modo tale da non lasciare anche soli i familiari nel momento in cui hanno bisogno e di come succede ora di arrangiarsi chiedendo agli amici infatti per trovare comunque un assistente familiare io avrei una domanda da rivolgerti e se non c'è la risposta diventa una raccomandazione e però quello che mi fa piacere è notare come in quest'area si è scelto di fare una programmazione guardando al futuro cioè il problema non è tanto il numero di anziani che hanno adesso ma guardando epidemiologicamente come la curva domani diventa poco sostenibile quindi l'analisi diventa come facciamo ad occuparci di questo territorio e nello stesso tempo coinvolgere le risorse dei territori e guardare a un altro problema come una risorsa quindi guardare la popolazione di donne dell'est immigrate come una risorsa piuttosto che come un problema da gestire sul territorio ora la domanda che volevo fare io è molto importante a livello di piano nazionale della cronicità investire anche sul cosiddetto caregiver che sia il familiare piuttosto che appunto un assistente esterno è uguale perché quando si forma il caregiver ha una serie di informazioni di tipo utile per il medico per esempio o per la terapia allora si ha in caso un alleato quindi se lo si forma insegnandogli a riconoscere alcuni segnali di cambiamento e quindi a comunicarli affinché venga chiamato il medico e si possa fare una rivalutazione della terapia o per esempio informandoli su cosa succede se per caso si salta una dose di una pillola che spesso diventa poi tossicità o inutilità del farmaco eccetera eccetera ecco allora la parte che mi interessa è capire se nella formazione di questi caregiver pensate di mettere un modulo che magari può essere condiviso chiaramente con l'azienda sanitaria con la parte più clinica diciamo dell'azienda sanitaria o essere semplicemente una formazione più come dire dell'avvio al lavoro e dal punto di vista esclusivamente socio-sanitario cioè di come il movimento è il malato di come lo prendo di come lo lavo e poi di come mi costituisco in cooperativa per fare sì che domani come dire ho tre o quattro persone che insieme a me possono alternarsi nel lavoro e darmi quella libertà di socializzare e di avere una mia vita di relazione che era il problema anche da risolvere rispetto alla qualità di vita del badante ti confermo che invece l'intenzione è quella proprio di professionalizzarla anche in questa direzione quando io parlavo appunto del lavoro diciamo coordinato sia col servizio sociale e professionale io chiaramente il mio punto di vista è questo ma anche appunto con il medico di medicina generale intendevo proprio questo considerate che diciamo noi tra l'altro nel territorio grazie all'istituzione del fondo della nuova sofficienza eroghiamo appunto dei contributi alle famiglie per l'assistente familiare già ora sperimentiamo che diventano diciamo veramente dei punti di riferimento importanti aggiungo anche questo io ho parlato solo di questo pezzettino però chiaramente è uno sviluppo complessivo di vari servizi di varie anche tipologie di risposte che per far fronte sempre all'invecchiamento della popolazione e abbiamo tra l'altro pensato all'attivazione di co-housing all'interno del co-housing è previsto ad esempio la presenza di un assistente familiare formato in questa direzione che chiaramente si prende a carico dei 5 barra 8 anziani per per diciamo seguirli appunto in tutta diciamo le loro problematicità i loro bisogni quindi compreso anche quello relativo ad esempio alla somministrazione delle terapie somministrazione dovrebbe essere aiuto alla brava all'aderenza alla terapia è sempre l'associazione di promozione sociale e nuova cooperativa come modello si è stato pensato questo come modello diciamo perché l'idea è questa che all'interno dell'associazione possano diciamo entrare a farne parte anche gli stessi familiari cioè che si crei praticamente anche all'interno stesso dell'organismo delle relazioni di fiducia e quindi far parte anche il familiare dell'associazione e l'assistente familiare era un elemento che consideravamo diciamo migliorativo rispetto appunto a questa relazione di fiducia ma il rapporto di lavoro è tra la famiglia e la persona quindi non con un'organizzazione come la cooperativa che vengono e servizie la tua mia no allora diceva era per capire bene il modello è chiaro che se si associano i familiari le persone però che lavorano gli assistenti familiari da un lato aderiscono all'associazione e ne fanno parte però nel momento in cui vengono prese dalla famiglia hanno un rapporto diretto con la famiglia di contrattuale abbiamo pensato anche alla possibilità che l'incarico fosse direttamente con l'associazione non solo con la persona cioè ha un duplice scopo da un lato creare diciamo un elenco come vi dicevo di persone accreditate e quindi in quel caso lì la relazione effettivamente è solo tra la persona e la famiglia la creazione dell'associazione di promozione sociale invece è il soggetto giuridico al quale la famiglia appunto si rivolge e c'è un rapporto di lavoro tra l'associazione e l'assistente ho capito allora io vorrei fare due cose adesso a parte far notare l'uso virtuoso di un collegamento della progettualità in questo caso all'uso del fondo sociale europeo e quindi dei fondi strutturali lo dico perché abbiamo cominciato con un progetto che nasceva invece su un bando europeo bando diretto sebbene di cooperazione territoriale e adesso invece stiamo vedendo il collegamento a fondi europei strutturali questo per dire che una certa idea d'Europa serve è ritornare al messaggio che dava Barca dicendo forse dovremmo dire all'Europa che si possono usare i fondi anche assecondando alcuni valori che non devono essere dimenticati cioè quello di ripartire da un lavoro da fare nelle comunità non scordarsi dei servizi di prossimità e che l'uomo è fatto di relazioni sociali di rapporti di fiducia eccetera eccetera allora due cose adesso in modo tale che poi a parte l'interazione che mi fa piacere che sviluppiate se avete delle domande in modo specifico o se voi volete approfondire qualcosa e chiedere qualcosa possiate farlo la prima cosa è una domanda per voi tre che però vi faccio un minuto dopo avere presentato invece l'esperienza esterna con Annalisa Mandorino a cui daremo un microfono da lì così facciamo la cittadina fra i cittadini perché lei rappresenta forse deve essere lei rappresenta cittadinanza attiva l'esperienza esterna è una cosa che la SNAI quest'anno ha voluto e cioè fare in modo che in ognuna delle sessioni venisse raccontato non qualcosa che è stato fatto all'interno di un'area ma qualcosa che ha senso che le aree ascoltino e viceversa che la cittadinanza attiva in questo caso possa a sua volta comprendere come lavorando alla SNAI può magari interagire meglio nelle sue ramificazioni territoriali nella sua attività quotidiana quindi vorrei un attimo sentire come cittadinanza attiva può raccontare quelle che sono delle esperienze collegabili ad aree interne sessione salute naturalmente lo dico perché cittadinanza attiva poi si spende sulla scuola si spende sulla giustizia quindi potremmo parlare di molte cose e poi per tutti e quattro perché a questo punto mi piacerebbe come dire avere una risposta più ampia la domanda che è il compito che abbiamo in tutte le sessioni che è quella cosa che è necessario fare ai diversi livelli di governo affinché le cose che abbiamo deciso di fare accadano davvero e in tempi utili per i nostri cittadini quindi questo come dire è la riflessione con cui torniamo subito dopo a voi Annalisa questa sarà la più difficile la domanda più difficile a cui rispondo l'integgio capito fantastico allora innanzitutto grazie Giada penso questo che noi stiamo lavorando molto accanto alla strategia delle aree interne tra l'altro pensando anche a un momento formativo in comune in partnership tra la strategia e cittadinanza attiva a cui stiamo lavorando insieme che si dovrebbe tenere nel prossimo autunno proprio sulle questioni legate ai bisogni di salute nelle aree interne però permettetemi di dire una cosa mi colpiva come dal racconto dei casi che sono stati fatti piuttosto che diciamo parlare dei bisogni di salute delle aree interne è come se le aree interne stessero diventando un volano di buona sanità e di sanità che funziona anche per il resto del paese perché che vuole funzionare che funzionerà mettiamola così all'indicativo al futuro però indicativo perché molti di questi di questi progetti di queste iniziative sono sicuramente contestualizzabili nell'area in cui sono nate ma anche riproducibili in altri contesti e in altre aree perché riguardano problemi in cui in tutto il paese non c'è una soluzione praticabile dai disturbi alimentari sino alle questioni legate alla telemedicina ai care giver eccetera sono tutte aree critiche della sanità del nostro paese non soltanto sulle aree interne per cui una strategia nata per rispondere ai bisogni di determinate aree rischia lo dico come paradosso virtuoso di trasformarsi invece in un volano diciamo di buone pratiche ma questo termine abusato neanche ci piace però di iniziative di sanità che funzionerà per tutto il paese Giada mi ha chiesto di dare due contributi su due attività diciamo fra le tante che cittadinanza attiva fa ma sarò brevissima non ti preoccupare perché uno l'ho già accennato noi da moltissimi anni dal 1997 raccogliamo e mettiamo in rete delle iniziative di successo in ambito sanitario facendo affidamento sulla rete territoriale quest'anno ci sono arrivate 258 iniziative una delle quali è stata premiata riguardava la provincia di Piacenza e guarda caso era un progetto di oncologia territoriale cioè di oncologia che andava a domicilio delle persone che va a domicilio delle persone con malattie oncologiche abbiamo raccolto questa banca dati di progetti di buona sanità di sanità che funziona e nello stesso tempo abbiamo consolidato una rete di operatori che sanità che funziona dal punto di vista dei cittadini sanità che funziona con un forte orientamento al cittadino nella nella proposizione di progetti e con i cittadini spesso protagonisti perché quest'anno la metà dei progetti che ci è pervenuta viene o da ambiti territoriali a rete oppure direttamente da organizzazioni e da iniziative civiche che si attivano per costruire sanità di successo è nata una rete di operatori di questa sanità che funziona che si tengono in contatto tra di loro e che valorizzano le esperienze reciproche nel modo in cui si sta dicendo anche con i casi di studio e come diceva Giada senza voler modellizzare questo genere di esperienze perché è giusto che ogni esperienza si attesti e si valorizzi rispetto al contesto di riferimento quando si è parlato anche nel corso del lavoro in plenaria di una federazione delle aree interne che come diceva Sabrina Lucatelli deve avere prevalentemente il compito di scambiarsi esperienze di cose che funzionano e che sono state in grado di produrre impatti positivi nella realtà la nostra rete delle buone pratiche in sanità mi sembra che potrebbe essere come dire un esempio che noi raccomandiamo come cittadinanza attiva nel senso che in questi anni ha funzionato questo scambio questa interazione ha funzionato io approfitto per fare un momento di pubblicità a progresso nel momento in cui andranno bene le implementazioni dei vostri progetti nulla vieta di presentarlo al bando che normalmente esce intorno a marzo-aprile il bando delle buone pratiche Mario Alessini Andrea Alessini scusatemi Mario Alessini è un mio amico Andrea Alessini e poi la valutazione viene fatta nell'arco di un mese quindi è un processo abbastanza serrato perché si presentano queste proposte su un formulario online e quindi hanno un processo piuttosto veloce sulla base di criteri anche molto definiti l'innovatività la sostenibilità l'orientamento quello che si vince è entrare in un club di gente che ci vuole provare che ci vuole lavorare perché in qualche modo vieni messo in rete con altri che stanno cercando di capire come possono migliare il miglioramento l'altro Andrea Alessini era un direttore generale di un'asla romana molto orientato nelle sue attività al cittadino ecco perché abbiamo scelto lui come simbolo di questo premio la seconda cosa invece di cui volevo parlare è un'esperienza anche qui molto molto antica all'interno di cittadinanza attiva molto consolidata i cui numeri sono anche importanti e anche la riconoscibilità pubblica è importante parlo del metodo dell'audit civico che è un'esperienza di valutazione che noi facciamo dei servizi pubblici che per esempio nel Piemonte nel piano sanitario regionale è entrata a livello istituzionale già nel 2009 che va a monitorare qualità sicurezza e una cosa a cui siamo particolarmente ovviamente attenti umanizzazione dei servizi sanitari facendo un percorso che noi chiamiamo di audit civico perché vede protagonista il cittadino in tutto il ciclo dell'audit in tutto il ciclo della valutazione e questo è il contributo che volevo dare alla strategia delle aree interne perché se un piccolo appunto posso muovere sulla base di quello che ho studiato e sentito è che questo coinvolgimento dei cittadini organizzati o singoli sarei per dire nella strategia delle aree interne non è fino a questo momento e quindi potrebbe esserlo in futuro così centrale come è stato il rapporto con le istituzioni e pian piano il rapporto con gli operatori questa componente civica vorrei correggere nel senso che è centrale ma purtroppo resta mediato invece nel vostro caso come dire magari riesce a superare qualche filtro nel nostro metodo nel metodo dell'audit civico il cittadino non è soltanto il destinatario o colui a cui vengono mediati degli interventi ma è la gente come dire l'attore protagonista in tutto il ciclo della valutazione e le parole chiave così anch'io uso le parole chiave e riesco ad essere sintetica rispetto alle quali l'audit civico funziona sono il problema l'individuazione di un problema in un determinato ambito territoriale o ambito ospedale o centro di riferimento una scelta di elementi in base ai quali misurare la criticità di questo problema questi elementi vengono scelti di comune accordo tra cittadini e istituzioni perché una delle caratteristiche dell'audit civico è quella di essere un processo in cui l'emersione dei problemi avviene in una dinamica interattiva tra componente civica e istituzione per cui non c'è un come dire una contrapposizione e neanche un'operazione di mera customer satisfaction come potremmo definirla ma un processo che viene fatto insieme in tutto il suo ciclo quindi individuazione del problema individuazione dei criteri sulla base dei quali misurarlo che sono criteri assolutamente oggettivi assolutamente empirici osservabili quindi non di percezione ma di misurazione di standard e misurazione appunto è poi messa in evidenza dei risultati di questa misurazione e poi sulla base di questo azioni di miglioramento piano di miglioramento tutto il ciclo dell'audit civico come dicevo è un ciclo condiviso in cui cittadini e istituzioni fino al piano di miglioramento e oltre il piano di miglioramento quando poi nella realtà vengono appunto effettuate delle azioni di cambiamento sono protagonisti insieme ecco non voglio prendere troppo spazio ma mi sembra che questa interazione virtuosa tra cittadini e istituzioni possa essere un elemento che nella definizione dei bisogni di salute sarebbe da implementare un pochino di più anche nell'ambito della strada io credo che vi ha risposto alla quarta domanda che siete a posto nel senso che la soluzione è l'audit civico assolutamente ma ora senti a me noi perché abbiamo l'altra area che dicevo che l'area dell'alta marmilla era istituzionalmente molto strutturata abbiamo la seconda area che è veramente un'area interna nell'interna della regione Sardegna e stiamo facendo fatica col metodo facendo loro hanno un'infrastrutturazione sanitaria incredibile perché hanno l'ospedale hanno tre poliambulatori in via di costruzione della casa della salute ma percepiscono la classificazione come ospedale di area disagiata una limitazione come dire un pericolo per la loro salute senza contare invece l'altro aspetto negativo è che la questione ospedale e le posti di lavoro ma questa la togliamo però invece ci sono delle esperienze anche in questo territorio incredibili e quindi noi stiamo provando a farli ragionare appunto in termini perché poi l'apertura del nostro assessorato è assoluta in termini di capiamo quali sono i fabbisogni e vediamo che cosa serve che cosa manca poi il nome è irrilevante ma facciamo una grande fatica quindi voi potreste essere attivanti sulla nostra area perché 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 ci darebbe secondo me Maura cosa ne pensi perché per esempio lì c'è un'esperienza clamorosa che è misconosciuta dalle alte gerarchie del sistema regionale del sistema come molte anche in Altamarmilla erano sconosciute però sono felici di partecipare il centro di salute mentale del genergentum Androlisai ha una neuropsichiatra una psichiatra e dei psicologi che insieme che lavorano insieme alle famiglie alle comunità e hanno attivato dei percorsi di integrazione incredibile attraverso il teatro che coinvolgono gli operatori e i pazienti che sono anche gravissimi trattati e poi vanno pure persino in giro per la Sardegna ovviamente noi io immagino avendo il pallotiere di tutti gli strumenti che ha a disposizione sono abituati a lavorare per progetti e qui si può non solo lavorare in termini di integrazione sociale ma anche in termini di opportunità lavorative anche in questo settore che è così molto particolare quindi che comunque non vedono così in modo cioè così per noi sono problemi che in realtà trovano soluzioni invece il territorio ha questa percezione estremamente negativa di questa classificazione che viene data all'ospedale non si riesce a spostarli quindi siete assolutamente invitati assolutamente la domanda un po' l'ho raccontata il grosso problema che noi tra i tanti che abbiamo avuto è quello appunto del passaggio tra intanto i soggetti coinvolti a meno che non siano nel territorio e partecipano con noi nel territorio lato centrale lato regione nell'altro area amministrativa della TS non ragionano in termini di persone vere in carne e ossa che hanno problemi per cui noi sembriamo dei pazzi visionari che si fanno carico di i neuropsichiatri sono fantastici fanno delle cose pazzesche anche gli psicologi per cui direi che la primaria diciamo è stata sfigata in questi termini dobbiamo contrarre diciamo questo passaggio tra diciamo la fase di programmazione ascolto con alcune tipologie di soggetti e coinvolgere anche chi poi deve partecipare alla fase di attuazione devono rendersi conto che siamo perché altrimenti diventa una discussione sull'indicatore che non finisce più una discussione che non finisce più sulla procedura una discussione che non finisce più sulle spese amissibili sul cronoprogramma procedurale finanziario che sono cose di cui io mi occupo però quando passo dall'altra parte diventa la missione cioè ho presente il soggetto ricoverato in quelle condizioni lì non me lo posso più dimenticare ecco va istituzionalizzata in qualche modo questa registrata penso che come dire utilizzare uno strumento lo dico strumento perché loro addirittura la chiamano tecnologia l'audit civico utilizzare uno strumento come quello dell'audit civico può essere un mezzo per far capire che prevede i piani di miglioramento questa è la cosa importante su cui ci si va a riconfrontare dopo x tempo a seconda di quello che il piano di miglioramento ritiene utile per vedere un cambiamento può essere un modo per far capire al cittadino che oggi vede semplicemente una minaccia rispetto alla definizione di un ospedale di zona disagiata invece lavorare sui punti di miglioramento di quell'ospedale andarli a monitorare nel tempo indipendentemente o meno dalle noiose procedure e denominazioni con cui invece ti devi confrontare tu come ufficio e che puoi quindi lasciare da parte esatto a loro lasci invece questa percezione di un cammino che si intraprende che si monitora che si guarda a cui si collabora in termini di costruzione di cui la SNAI costituisce un'occasione di portafoglio che va a intervenire su dei bisogni che possono emergere in questo momento perché sono cose di discussione lunghe quindi per quanto noi fossimo presenti sul territorio non si faceva neanche noi eravamo presenti fisicamente sul territorio non lo facevamo nella nostra stanzetta però nelle fasi in cui c'erano i passaggi tecnici quindi dalla definizione della scheda dell'indicatore il risultato atteso eccetera eccetera tutto lì si fermava tutto gli amministratori noi siamo nella fase diciamo già firmato l'APQ quindi siamo nella fase di attuazione io un po' Giada mi aveva sollecitato rispetto a evidenziare alcuni aspetti secondo me è fondamentale un lavoro fortemente coordinato tra poi sono state anche detti nella sessione plenaria quindi non faccio altro che un po' ripeterli coordinamento tra agenzia di coesione regione e aria coordinamento vuol dire una responsabilità condivisa cioè non si deve essere in una posizione di attesa cioè nel senso io ho passato il problema alla regione e la regione lo deve risolvere poi me lo dà l'aria io aria non ho capito in realtà che cosa vogliono ripasso dall'agenzia di coesione cioè questa roba qui non funziona nel senso siamo tutti nella stessa linea bisogna portare avanti appunto la fase attuativa e quindi tutti veramente ci si deve sentire responsabili in questa cosa cioè non è una procedura riprendendo le parole tue non è una procedura in realtà è un processo attuativo progetti che devono appunto essere realizzati e quindi questo l'altro elemento per chi non so se qui ancora sta facendo progettazione quindi la fase di coprogettazione è fondamentale pensare al momento poi della firma della PQ a creare uno staff tecnico forte cioè solido con figure amministrative e anche figure tecniche rispetto alla materia perché una volta che è stato approvato la PQ siamo solo all'inizio cioè nel senso poi veramente ci sono gare d'appalto quindi bandi cook eccetera altro elemento fondamentale è il processo di animazione nel territorio e quindi può essere benissimo questo lo strumento anzi lo trovo molto interessante magari formalizzarlo in qualche modo con il cittadino e non sì 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 no no è chiaro sia da parte degli operatori per il coinvolgimento il sentirsi parte del processo ma anche del cittadino perché non basta il comunicato stampa anzi nelle due a volte il comunicato stampa disorienta o distorce appunto l'informazione perché poi non vedono realizzato immediatamente il progetto e pensano appunto no allora è tutto morto quindi strutturare appunto questo processo di animazione rispetto appunto agli operatori rispetto ai cittadini dopo un vittorio visto che è andato di dare un appalto di procedura voglio dire una cosa per città finanziativa a meno che vittorio non sapevo dire mi butta il microfono essendo in una fase ancora di progettazione così lo stimolo che mi veniva riparto dal mio infermierino di comunità che lì andrà a intrecciare nei prossimi mesi un progetto regionale che è quello della cronicità che in Lombardia è una roba modellizzata all'estremo nel senso che da Milano parte l'elenco nominativo delle persone è tutto molto progettato io credo che diversamente dalle altre regioni vorrei dire dal grosso delle altre regioni nel senso che sono anche votate assolutamente adesso vi faccio perdere un secondo ma lo spiego se noi con questo modello riuscissimo a avere la programmazione dei bisogni dei malati cronici noti per essere cronici quindi con l'elenco che parte da Milano risolviamo un problema organizzativo della sanità che serve non voglio omitare però adesso voglio volare io sono convinto che però inoltre po' quel modello lì così strutturato non funzionerà perché gli erogatori bisogna la libertà di scelta il cittadino può fare quello che deve lì c'è un erogatore probabilmente a cui noi andremo a parlare quindi viene mitizzato nel modello diciamo regionale ma poi lì nell'area interna quella roba lì diventa quasi una caricatura allora l'idea alla domanda cosa si può fare ai vari livelli è usare la sperimentalità quasi con un tocco di trasgressività per dimostrare i limiti del modello nel senso che probabilmente lì io penso che sulla cronicità il modello sia che non esiste un modello cioè bisogna spostarsi molto verso il risultato diciamo e fregarsene un po' di come le varie realtà si organizzano per ottenere quel risultato bisogna andare un po' in quella direzione allora io quello che penso è che nell'esperienza nostra potremmo siccome lo dovremmo intrecciare perché faremo l'infermiera di comunità mentre in regione si sta facendo quando dico che penso che non funzioni perché in provincia di Pavia abbiamo spedito 140.000 lettere per ora abbiamo avuto 30 persone che hanno risposto quindi penso che non funzioni così come è stato pensato non solo nell'oltrepo e quindi dobbiamo darci e allora l'idea potrebbe essere un po' mettiamo in discussione il modello trasgrediamo un po' le regole un po' magari corriamo perché abbiamo qualche risorsa in più a fare vedere che qualche cosa di diverso può funzionare quindi anche l'alto livello istituzionale può essere convinto di lasciarci un po' di spazio e questo probabilmente un pochino fa cultura è un po' l'emozione che corregge questa regola che è un po' troppo quindi questo potrebbe essere in sede di spazio poi l'altra cosa invece che mi riguarda personalmente ma lo dico è probabilmente è già un'istruzione che arriva dal fatto che noi siamo alla seconda o la terza linea è metterci nei soggetti attuatori nel nostro caso livelli di responsabilità un po' alti la mia ATS ha messo il diciamo il responsabile di tutta la programmazione territoriale che quindi io sono proprio responsabile di questo progettino nell'oltrepo però sono anche quello che vede tutto per esempio ho già visto che quell'area lì ha un elevatissimo consumo di residenzialità psichiatrica e non ha offerta lì quindi lì i matti vengono esportati fuori dall'oltrepo quello lì è un problema è anche un'opportunità riportare i malati di mente in valle probabilmente costituisce anche un'occasione di lavoro eccetera quello lì lo vedo io perché al mio livello devo seguire quella cosina lì che riguarda 11.000 persone ma devo anche occuparmi della programmazione dell'altro mezzo milione di cui sono responsabile questo risponde in qualche modo alla criticità che sollevavano le rappresentanti della Sardegna e soprattutto riguardo al coinvolgimento di vari livelli di responsabilità in tutta la filiera che possono bloccare soprattutto dal punto di vista tecnico e amministrativo il processo cioè diciamo alzare il livello di responsabilità dei soggetti che partecipano alle varie tappe di elaborazione facci mettere la faccia a questi livelli di responsabilità è certo che bisogna credersi il mio direttore generale ha scelto me poteva scegliere nel senso poteva fare una scelta nel senso poteva mettere un responsabile locale di distretto lì abbiamo ancora l'ospedale in quella zona lì potevano prendere qualunque operatore di periferia e rimaneva un'esperienza locale invece lì è stato quindi non è scontato che sia però il mio il mio suggerimento è spingere anche perché i livelli diciamo intermedi vengano responsabilizzati a livello un po' alto ecco ci mettono la faccia soprattutto rendano conto dei risultati allora questo è qualcosa che noi già con il ministero quando andiamo nelle aree abbiamo come dire imparato a pretendere con Katia con Roberto con Maria chiediamo di sederci benissimo con i territori però vogliamo vedere le aziende sanitarie e quando è l'assessorato e specifichiamo che rispetto a quelle che sono le linee di intervento che da quel territorio cominciano a vedersi si vengano a sedere i livelli di responsabilità quindi che non mi venga per esempio il direttore generale che però di emergenza urgenza non ha la specificità la specifica competenza eccetera eccetera ma venga il direttore generale accompagnato dal dirigente dell'emergenza urgenza piuttosto che della programmazione territoriale o che li abbia formalmente delegati perché è chiaro che magari non possono venire tutti insieme la prima volta ma devono poter rapportare al livello di responsabilità quindi è un suggerimento che appunto essendo seconda terza area probabilmente ti hanno già come dire fatto scafare un po' di più su questo tipo di accortezza io vorrei sapere visto che siamo stati bravissimi siamo nei tempi credo che non stiamo sforando più di così se invece ci sono qualche intervento dal pubblico c'era un microfono da quelle parti esatto e se dici magari il no perché parte di regione Liguria allora non possono intervenire sull'infermiere di comunità perché è stato accennato ma consenso nasce tra Piemonte e Liguria quindi consenso nasce la mia idea di Giuseppe Salamina che non so perché non sia venuto qua l'ho scritto di venire ai campi o cittani stasera e spero ci raggiunga perché quando ho visto che non c'era mi è venuto male al cuore e l'idea sua è stata portata in un formulario di The Red Spazio Alpino dalla sottoscritta e da un mio collega che maciniamo per il terropeo a 2000 quindi quelle fantastiche idee dell'infermiere comunità dovevano essere inquadrate in un percorso con indicatori o dei vari per cui me lo sento proprio come fosse mio in realtà ne approfitto per ricordare a Pumitato che è osservatore del progetto consenso nel senso che il Comitato Nazionale per l'interno è osservatore per la regione di Curia del progetto consenso che si chiederà ad ottobre con un evento in Curia e volevo come dire cogliere l'occasione per ricordare a chi è interessato a questa sperimentazione ed eventualmente e ovviamente a Salina o chi per essa ci porteremo poi la data e ci fosse interessato a approfondire questa progettualità che poi ha messo a confronto regioni di Curia e regioni di Monti ma altre regioni dello spazio alpino con difficoltà enormi perché se ci sono differenze ovviamente con la sanità e con la Slovenia in Austria o in Francia è stata tutta una partita a giocare sì ma molto molto divertente questo per dire che come dire è una pratica eccezionale secondo me e di integrazione fondi perché era un FESR ma di CTE e di integrazione di percorsi perché parlo male non ero spento e di integrazione di percorsi perché io e Giuseppe avevamo in mente le aree interne perché Consenso ha fatto il kick off qua nel aprile 2016 è stato approvato a fine 2015 per cui noi eravamo già nel percorso aree interne e quando dovevamo scegliere dove sperimenteremo la figura dell'infermiere di comunità abbiamo pensato io in Liguria nella nostra area interna e infatti rappresenta anche Roberto al kick off e quindi lo terrei proprio in mente come un esempio virtuoso perché ha usato i fondi ha usato l'integrazione di risorse come Liguria e Piemonte abbiamo usato anche un altro progetto di salute pubblica che è Sanfrail che il cui questionario è stato messo all'interno del progetto Consenso per sviluppare quello che lui poco fa ha citato non ha detto il nome dello strumento ma ha citato la scala Palumerica era il geriatra dico era perché adesso è in pensione ma è rimasto geriatra vorrei dirti che in Piemonte abbiamo fatto un momento di preparazione prima di venire qua in cui abbiamo invitato le quattro aree interne quindi anche le due che devono entrare ancora nel percorso gli abbiamo fatto presentare da Giuseppe Salamina il progetto abbiamo invitato le colleghe di Cuneo 1 e abbiamo invitato Vittorio che essendo nel frattempo un piemontese di esportazione in Lombardia avendo visto che aveva l'area che stava pensando già prima che lui arrivasse all'infermiere di famiglia abbiamo detto vieni che ragioniamo tutti insieme questo per dirti che Giuseppe era comunque come dire più che informato ma soprattutto messo in condizioni di vedere che la sua iniziale intuizione di lavorare a un progetto europeo e provare ad appoggiarlo su successivi come dire step di implementazione la volevamo anzi come dire supportare e portare avanti abbiamo anche spinto le due aree nuove a cominciare a ragionare all'interno del sistema sanitario e farsi trovare pronti quando i sindaci verranno per il meccanismo di aree interne a sedersi e cominciare a ragionare su quelli che sono i percorsi spiegando bene che non è un progetto obbligatorio quello dell'infermiera di famiglia ma che si parte dalla fotografia dei bisogni dei territori ma invitandoli a condividere quelle che sono buone prassi ed esperienze e non ripartire da zero rispetto appunto a cose che sono state apprese grazie sia al progetto consenso sia a quello che altre aree stanno cominciando appunto a sviluppare e implementare quindi ben venga la possibilità di magari estendere tramite SNAI e tramite l'invito a Sabrina come dire quell'occasione di momento come dire di sintesi di tutto quello che avete appreso in questi tre anni sull'infermiere di famiglia e farlo diventare un fattore comune per tutti lascio un attimo forse Chiara teneva a dire qualcosa sì volevo soltanto aggiungere che diciamo il modello è stato nella mia esperienza precedente all'interno del ministero ho avuto modo di rappresentare diciamo cosa emergeva cosa stava emergendo dal progetto consenso nel tavolo nazionale sul task shifting cioè la buona pratica dell'introduzione dell'infermiere di comunità è stata effettivamente presa in grande considerazione all'interno di un lavoro di stesura di linee di indirizzo centrali proprio in tema di ridistribuzione delle competenze tra i professionisti sanitari per cui e questo è stato diciamo accompagnato è stato accompagnato ma soprattutto è scaturito dalla vostra esperienza che peraltro abbiamo incorporato come ministero all'epoca all'interno delle linee di indirizzo proprio per la progettazione degli interventi nelle aree interne quindi devo dire che insomma è stato anche perché all'epoca tra l'altro era una delle prime veramente delle prime esperienze di intervento in questi territori quindi effettivamente aveva anche sottolineo sempre questa idea del modello che non avere modello l'infermiera di comunità nasce come un titolo di studio poi con senso lo fa diventare una funzione e secondo me adesso è partito così era l'università all'inizio che faceva adesso io continuo a dire potrebbe fare quella funzione lì anche uno che ha un titolo di studio diverso per dire quindi è partito avendo in testo un modello anche un po' rigidotto e ha prodato a una funzione che adesso secondo me può essere declinata anche in modelli diversi in questo senso l'importante è che qualcuno vada in maniera attiva a rilevare i bisogni a fare l'attivatore di rete in questo senso dicevo abbandonare modelli un po' rigidi anche se lì è stato di successo ma lo so perché sembra che io lo critichi ma l'università ne ha sfornate negli ultimi decenni almeno in sanità di idee che sono poi naufragate di figure professionali specifiche che poi non hanno trovato mercato a non finire questa è andata bene perché era bella la funzione che doveva svolgere ma il master c'è stato costruito cioè il master di consenso è stato costruito appositamente su quella cosa là sta specificando che è nato ora si ci vuole in questo caso prima la gallina e poi l'uovo nel senso che non c'era stato un disegno di fabbisogno perché ancora era una funzione poco conosciuta come effetti sul territorio quindi si è formato prima di tutto l'infermiere barra le sue funzioni che nel frattempo si sono sviluppate anche rispetto come dire alle aspettative iniziali nel senso che sono per esempio stati sviluppati come compiti anche quello di promuovere il gruppo di cammino piuttosto che l'empowerment di comunità cioè grazie per esempio a progetti come consenso si è capito anche meglio quello che l'infermiere può sviluppare all'interno di una risorsa e da questo punto di vista oggi bisogna fare in modo che l'eventuale fabbisogno formativo si sposi invece con come dire una possibilità di implementare il servizio c'è un'ultima domanda dal pubblico e poi faremo i bravi e cercheremo di arrivare prima degli altri ok perché mi rendo conto che è molto tecnico questo gruppo di lavoro io sono un sindaco sono sindaco referente dell'area a Penino Emiliano cioè Reggio Emilia noi abbiamo dentro la nostra strategia le infermieri di comunità non è capito e non è condiviso addirittura da un sindaco che è primario ospedaliero e che non lo voleva assolutamente portarlo sul territorio che è una cosa allucinante perché viene visto come quell'infermiere che deve fare i prelievi che deve fare quelle cose lì che ci è già coperto ci siamo già coperte da quel punto di vista lì quindi bisogna lavorare su questo l'altra questione che volevo porre ma è più ampia ma mi rendo conto che insomma va posta dentro alla federazione aria interna io vengo da un'esperienza che ci ha fatto partire da un evento negativo che vediamo nel nostro territorio ma che non voglio dire però abbiamo un ospedale forse ci siamo visti a Roma non so se ecco esatto però volevo parlare invece di una questione che riguarda noi abbiamo un ospedale di primo livello allora questi e chiedo dove possiamo eventualmente poi cominciare a parlare perché noi parliamo di servizi rivolti agli anziani al fatto che abbiamo popolazione anziana direi che stasera a cena ci fermiamo su questo tema un minuto però no no perché è necessario noi abbiamo bisogno l'ambizione che abbiamo noi di riportare sul territorio i giovani quindi dobbiamo mettere in campo servizi sanitari che vanno in funzione dei giovani che i giovani possono venire ad abitare nel nostro territorio perché trovano tante risposte dalla maternità il pre il post parto e da altre funzioni quindi bisogna che troviamo un modo dentro la strategia interna che ci fermiamo a parlare davvero perché altrimenti l'azienda OSL la regione ci giudica con i numeri decidi i finanziamenti con i numeri e taglia con i numeri quindi noi non possiamo più ragionare in questo in questo modo ho messo in evidenza come ritenessi un carattere virtuoso che si è partito dai numeri dell'emergenza che erano sicuramente gli anziani ma che si sia voluto affrontare il problema dal punto di vista delle risorse per i giovani quindi sicuramente è un tema da porre sindaco grazie 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 grazie